Lo studio di Bella Ma, il programma di Pierluigi Diaco su Rai 2, è in fermento. Il conduttore avrebbe prima allontanato Adriana Volpe, sua ospite fissa, non avrebbe gradito l'intervista Verità, con tanto di pace con Giancarlo Magalli, rilasciata a Verissimo di Silvia Toffanin, e adesso sarebbe sempre più concreto il suo desiderio di portare il programma su Rai 1. Alberto Dandolo, nella sua rubrica sul settimanale Oggi in Edicola questa settimana, rivela che Diaco è sempre più in ascesa in Rai, forte della sua amicizia con Giorgia Meloni e della stima per lui nutrita dagli attuali vertici aziendali. È assai probabile che il conduttore romano nella prossima stagione televisiva realizzi il suo vero, grande, sogno. Portare il suo format nel primo pomeriggio di Rai 1 attualmente occupato da Caterina Balivo.